Sicuramente il dato positivo è la partecipazione e l'attenzione che le ragazze hanno messo sia nella seduta del mattino riservato a un lavoro sui fondamentali individuali e alle collaborazioni, sia in questo incontro pomeridiano a ranghi misti. Credo che la cosa positiva sia anche l'iniziativa che queste ragazze hanno preso nell'ambito del gioco, che ha mostrato aspetti interessanti, che sicuramente stanno a dimostrare che il lavoro effettuato in entrambe le regioni è un lavoro orientato alla formazione di queste giocatrici e non orientato all'acquisizione di puri risultati agonistici. Quale bilancio si può trarre in questa prima fase del 2015, molto intensa per la Puglia, vista la partecipazione a tornei di spessore e a questo raduno interregionale? Il bilancio è sicuramente positivo perché abbiamo visto una crescita da parte delle ragazze sia in quelli che sono gli aspetti della formazione individuale, come ho detto già prima, ma anche nella ricerca di un gioco collettivo. Da questo punto di vista sicuramente dati importanti sono venuti sia dal torneo di Mosciano che dal torneo Fabri, ma soprattutto in queste ultime settimane abbiamo riscontrato anche negli allenamenti svolti sotto gli occhi del responsabile nazionale Giovanni Lucchesi un approccio sicuramente più partecipativo e più, ripeto, attento. Questo è solo un sintomo anche che probabilmente in qualche società si comincia a lavorare in un certo senso.